Come fare 180 euro di ordini in un solo giorno? Se sei curiosa, continua a guardare! Ciao, sono Cristina, sono un'ingegnere e mi dedico alla formazione perché sono sicura di poter aiutare nella crescita anche te. Il sogno di tutti, arrivare a 180 euro di ordini nei brochet in un solo giorno. Sembra difficilissimo, sembra l'impresa possibile, ma in realtà è semplicissimo. Come funziona? Allora, noi prendiamo l'album, l'album che è in corso, prendiamo l'album e lo sfogliamo, sfogliamo tutte le offerte che ci sono su questo album. Se non ti va di sfogliarlo, guarda uno dei miei video dove ti racconto le offerte che ci sono nell'album così troverai un riassunto. Dopo che hai sfogliato l'album e l'hai studiato per bene, scriviti nel frattempo che tu sfogli l'album, ti scrivi su un foglio tutte le offerte che ti piacciono. Le offerte, proprio quelle più succulenti che vuoi proporre alle tue clienti. Una volta che hai scritto su un foglio le offerte più succulenti, cosa facciamo? Scriviamo una lista di tutte le nostre clienti, le nostre clienti abituali, le nostre clienti lontane, tutte, tutte, tutte le clienti. Tutte le nostre clienti scriviamo su un foglio. Poi, quello che facciamo è, ok, abbiamo queste offerte, abbiamo questi clienti, quali offerte possono andare bene a questi clienti? E in base a questo poi misureremo il nostro ordine. Ovviamente di fianco alle offerte scriviamo il prezzo, cioè quanto costano queste offerte. Non scriveremo solamente che i balsami labbra invece di 2,50 euro costano 1,50 euro, perché se no dovremmo vendere 100 balsami labbra per arrivare a una cifra importante, cosa che non è impossibile ma sicuramente è più difficile. Quindi scriviamo diverse offerte, anche con prezzi più alti di 1,50 euro, 2 euro, ma comunque sempre prodotti in offerta. Noi guardiamo i prodotti che ci servono per arrivare a 180 euro. Quindi per arrivare a 180 euro noi dovremmo vendere un tot di prodotti. Ovviamente magari stiamo un pochino più sopra di 180 euro, magari arriviamo a 190, magari a 200, perché non è detto che proprio tutti i messaggi che mandiamo la cliente dice sì acquistamelo. Però una volta che noi abbiamo deciso che vogliamo vendere quel prodotto a quella cliente, state sicuri che quel prodotto a quella cliente glielo vendiamo. Come si fa quindi a venderlo sicuramente quel prodotto a quella cliente? Si fa un messaggio personalizzato, cioè noi scriviamo un messaggio dove descriviamo l'offerta, dove ovviamente spieghiamo il perché noi pensiamo sia adatto a Maria quel prodotto, quell'offerta specificatamente perché così Maria non può dirci di non, cioè Maria lo deve acquistare perché noi abbiamo pensato proprio a lei, abbiamo pensato a Maria che ha bisogno di quel prodotto perché solitamente Maria ce l'acquista e quindi quel prodotto è fortemente in offerta e quindi Maria ce l'acquisterà. Se provate questo metodo scrivetemi in punto qua sotto che avete provato questo metodo perché funziona sempre, io l'ho provato e funziona veramente sempre. Ovviamente richiede 10 minuti di detto tempo ma è un tempo assolutamente necessario perché così riusciamo ad arrivare all'ordine di 180 euro che noi sappiamo è importantissimo perché è una cifra alta e quindi noi guadagniamo in percentuale. non solo se sei consulente di bellezza ma anche se sei cliente privilegiata. Quindi questo metodo funziona sia se tu sei consulente di bellezza, sia se tu sei cliente privilegiata, sia se tu sei capogruppo ovviamente. Quindi fai in questo modo, tu devi pensare sempre all'offerta e devi pensare alla cliente alla quale venderlo. In questo modo tu venderai tutto quello che desideri e arriverai in un solo giorno a 180 euro. Spero che questo video ti sia stato utile, se è così lascia un mi piace, se ancora non sei iscritta considera di iscriverti a questo canale, mi farebbe davvero tanto piacere. Io ti aspetto su Instagram, mi trovo su Cristina.Varone e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!